Grazie Shari, a nome dell'amministrazione volevo ringraziare di cuore ovviamente tutte le catesi che hanno deciso di aderire a questa iniziativa, un grazie di cuore ovviamente alla scia di vento un grazie di cuore anche ai volontari degli Alpini, della Croce Rossa e alle Forze dell'Ordine che grazie a loro si è svolta una bellissima serata. Come sapete il Comune di Tercate ha deciso di aderire a un'iniziativa, facciamo la differenza insieme ad altri comuni insieme al Comune di Novare, al Comune di Gagliate, è nato questo progetto, ancora aderito altri comuni della provincia che è quello appunto di organizzare una serata benefica di solidarietà e di aiutare concretamente una popolazione che purtroppo è veramente in difficoltà. Quindi grazie anche a questa serata di divertimento, grazie a tutti voi, potremmo aiutare concretamente delle famiglie e delle persone italiane che sono in difficoltà. Grazie di cuore a nome di tutta l'amministrazione e grazie anche a tutte le persone che hanno collaborato con noi, con l'amministrazione, ai vari uffici, ai volontari, perché tutto questo è grazie al vostro impegno e ai vostri sacrifici. Grazie di cuore e ci vedremo nelle prossime settimane. Buona serata. Buonasera a tutti. Volevo ringraziare ancora Ciari. Vieni qua, dai. Un applauso ancora Ciari perché ci abbiamo messo due secondi, ci siamo intesi subito per fare questa serata e lui è corso qui per darci una mano per la solidarietà e per i terremotanti. Grazie ancora e grazie a voi trecatesi. Buonasera. Un grazie a tutti voi per aver stati qui con noi. Un grazie all'amministrazione che mi ha potuto dare l'opportunità di presentare questo spettacolo qui con Ciari che io prima non conoscevo ma che ora apprezzo molto. Una cosa, io non so come ringraziare, mi sono buttata a capofitto in questa esperienza e lui ha parlato di venti giorni. Io vi posso assicurare che con il mio equip, il mio funzionario, il mio gruppo, la maggioranza nostra e tutta ci abbiamo impiegato la bellezza di dodici giorni. Dicassi dodici giorni di lavoro, di perdita di tempo ma le abbiamo fatte con voglia, con passione per arrivare qui a questa sera. Ringrazio Federico Binatti, fondamentale in tutto. Ringrazio Roberto che ha avuto l'idea e quindi poi ha contattato me. Ringrazio Ciari con la sua equip fondamentale per questa serata. E io dico solo grazie e mi chino a voi. Un'informazione, c'è ancora della pasta asciutta, acqua, chi volesse, guardate, andate là, chiedete, non c'è bisogno se volete offrire qualcosa, se no loro sono a disposizione, piuttosto che buttarla via se qualcuno vuole qualcosa, là si può andare. Premetto, il palco non è mio ma ne approfitto. È mezzanotte e cinque, devo dire, buon compleanno Luciano con cinque minuti di ritardo. Grazie.